Sono Pinuccio, per gli amici, per i creditori Alessio e Giannone. Ciao a tutti, sono Daniele Selvitella, in arte Daniele Doesn't Matter. Ciao, sono Carlo Gabardini, faccio l'attore, l'autore, lo sceneggiatore. Bello accorgersi che in sei non siamo in grado di fare una piadina comunque. Bello accorgersi che in sei non siamo in grado di fare una piadina,